Fabri, specialisti nelle scienze della vita, meccanici artigianali, operai edili specializzati, autotrasportatori, saldatori e lattonieri, operai calzaturieri, cuochi e camerieri, i mestieri introvabili, ricercati dalle imprese marchigiane ma irreperibili sul mercato del lavoro, un fenomeno, quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, che è diventato endemico e che si sta aggravando ogni mese. A dicembre, afferma il presidente CNA Marche Paolo Silenzi, secondo il nostro centro studi, che ha elaborato i dati Celso Rampal, Union Camera e Ministero del Lavoro, le imprese della nostra regione stanno cercando 7.710 lavoratori e prevedono di assumerne 30.890 entro la fine di febbraio 2024, ma in 52 casi su 100 le aziende hanno difficoltà a trovare i profili desiderati e devono rinunciare a ampliare l'organico aziendale. Questo significa perdere commesse e frenare la produzione, con ripercussioni sul sistema economico marchigiano. Per superare lo scollamento tra domanda e offerta di lavoro serve un rapporto strutturale e costante tra scuole e imprese, centri di formazione e centri per l'impiego. Occorre costruire l'offerta formativa ai corsi scolastici sulle esigenze delle imprese marchigiane. In questo un ruolo importante può assumerlo la regione, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria che meglio di tutti conoscono le esigenze del sistema produttivo regionale.